Semi nude o nude, chi nude danzano in un locale, o semi nude si spogliano tra musica e colori, o nude giocano a pallavolo in una spiaggia naturista, o nude posano per un fotografo, è bello, non rompetemi le palle, non rompetemi le palle con i vostri discorsi svolgati, maschilisti, come sussiegoli, femministi, in questo caso, è curioso, no? Vanno a parlare allo stesso discorso. Non rompene le palle, dire che queste cose fanno schifo perché anche la tv di Pertusconi le fa, è come dire che Dante fa schifo perché anche Bondi le poesie le fa. Bene ragazzi, semi nude o nude, è un patrimonio di umanità che l'UNESCO dovrebbe tutelare, affascinavo 8.000 anni fa, finché c'è vita affascinerà, e la ragazza che lo fa, io la guardo con vasta gratitudine, aggiunge al mondo un tocco di splendore, ruba un poco di luce e il murio che tutti ci attende con il suo tocchillo stronto. Vedere ragazze semi nude o nude nell'armonia del corpo in movimento è bello, non rompetele le palle, né rompetele a loro, guardatele piuttosto, e se siete fortunati, baciatele, e anche fidanzate e picciatele, perché dopo fidanzatele, non picciate loro e smettete di danzare il numero e il numero. Se avete quell'idea, piuttosto astenete il PC.